Tutto pronto per la settima edizione della manifestazione Bordighera, un mare di sapori che si svolgerà da lunedì a mercoledì prossimi dalle 19 su lungomare argentina Bordighera. Una tre giorni intensa, attenta a celebrare il buon cibo come confermatoci dal presidente di Confcommercio Bordighera Gianluca Berlusconi. Sì, siamo molto soddisfatti di come è andata un paese di sapori a Bordighera Alta, però è vero che Mare di Sapori è la prima manifestazione di una lunga serie di manifestazioni di successo culinarie e quindi quest'anno con tantissimo entusiasmo, con nuove proposte culinarie e tanti operatori, ripartiamo dopo la pandemia, lunedì, martedì, mercoledì, con tre serate veramente all'insegna del buon cibo, la buona musica, siamo molto molto carichi, entusiasti e questo entusiasmo mi viene trasferito proprio dai ristoratori stessi, dai nostri esercenti che quest'anno più che mai, nonostante il caldo, nonostante le tante presenze turistiche quindi già affaticati dal lavoro, diciamo normale, però vogliono assolutamente partecipare a questa Kermess che dà tanto lustro e fa conoscere Bordighera come una cittadina del buon cibo, dei buoni ristoranti, quindi per i turisti non solo stranieri ma anche italiani ormai è una tradizione assodata, quindi che il fine, l'ultimo weekend di luglio si venga per un mare di sapori a Bordighera, questo l'abbiamo potuto riscontrare tramite i nostri ristoratori e tramite gli stabilimenti balneari dove le pronotazioni ci sono in particolar modo in questa ultima settimana, quindi questo da operatori del settore ci fa molto ma molto piacere. Mi farà molto piacere anche l'adesione sempre massiccia da parte di tutti i ristoratori che non si tirano mai indietro in queste occasioni. Sì, assolutamente e come dicevo quest'anno oltre all'entusiasmo ci sono anche delle nuove proposte, quindi non solo salato, perché ovviamente la fa da padrone, ma anche delle proposte sui dolci, quindi hanno partecipato anche delle pasticcerie e siamo molto molto soddisfatti e anche una nuova proposta dove c'è da sponsorizzare un nuovo tipo di gin, l'Embory Gin e ci fa piacere, quindi è una cosa un po' diversa perché è un gin delle nostre parti, del nostro territorio che viene lanciato sul mercato e quale cornice migliore di un mare di sapori per poterlo lanciare e avere tanti turisti che possono degustare questa nuova proposta. Un appuntamento sul lungomare con i buoni sapori dopo quelli del Paese Alto, però in un fil rouge che continua a Bordigera per tutta l'estate. Esattamente, quest'anno si offre una stagione enogastronomica ricca, partendo con un paese di sapori che ha riscosso un ottimo successo e adesso si va con un mare di sapori e seguirà Birembô. Perciò si ha un'offerta enogastronomica interessante, dato che abbiamo ristoratori di eccellenza perché il buon mangiare, il buon gusto a Bordigera non manca e siamo visitati da tutta la Costa Azzurra per il prodotto che si offre. Quest'anno, alla settima edizione, avremo sicuramente un buon riscontro perché dopo uno stop la gente ha voglia di uscire, ha voglia di rivivere la propria vita e dietro c'è stato un grande lavoro perché questo è stato possibile soltanto con la collaborazione di comune, ristoratori e confcommercio. Un lavoro dietro importante che è cominciato addirittura ad aprile ma che come avete visto in Birembô e come vedrete nelle prossime edizioni ha portato i frutti che abbiamo meritato tutti.